Grazie Isabella, a te sei stata esustiva e chiara come sempre. A questo punto lascio la parola al cuore del nostro webinar a Marco Ranieri, account manager di DM Cultura. Grazie, vai Marco. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Chiedo conferma che vedete il mio schermo, se riuscite a vedere. Deve attenzionare le necessità di chi lo usa. È un po' il percorso di questi 15-20 minuti che faremo insieme, sarà proprio legato a raccontare quelle che sono le evoluzioni che sono state portate avanti, che sono già disponibili nella nuova versione. Ed è comunque un percorso che faremo e che stiamo facendo insieme già da alcuni anni e che continueremo a fare. Quindi l'intenzione è proprio quella di continuare questo percorso. Come citato già dalla dottoressa Collina, il Samira è certificato SAS, quindi nel cloud per la pubblica amministrazione, che è un elemento importante perché attesta il fatto che è compliant il software, quindi è un punto di partenza. Raccontiamo un po' cosa c'è nel Samira Nuovo. Alterneremo un pochino le slide in cui comunque ci sono molte immagini all'ambiente su cui faremo qualche click. Il primo punto è quello di rendere il sistema più performante, quindi più veloce, con una gestione della sessione di lavoro più efficiente e stabile per un software che comunque incominciava a superare il diecennio. Quindi è stata fatta una rivisitazione anche un po' delle fondamenta dell'applicativo. Questo è un elemento importante che è di tipo tecnico, però la stabilità è comunque un primo punto di arrivo indispensabile, altrimenti le nuove funzionalità non hanno dove poggiare. Così come il miglioramento all'aumentare della banca dati, il Samira gestisce ormai a livello nazionale banche dati particolarmente significative in termini di occorrenze, tra cui appunto quella della regione Emilia Romagna, il miglioramento degli strumenti che permettono la ricerca, quindi la velocità di ricerca. Poi vi racconterò con queste slide alcuni elementi di novità nell'interfaccia, nuovi menu dinamici più veloci e alcuni pulsanti che velocizzano e permettono di andare più velocemente a catalogare e inserire informazioni e anche facilitazioni pensate sulla testata della pagina. Queste funzionalità di cui parleremo in queste slide sono funzionalità che, come detto, sono state pensate veramente raccogliendo nei vari sistemi regionali e in particolare in quello della regione Emilia Romagna, quelle che sono le richieste arrivate all'indirizzo di cui prima comunque trasmesse a noi dai referenti regionali. Il mantra è un po' quello di voler velocizzare e semplificare il lavoro, anche in funzione di progetti e di questi percorsi di catalogazione e digitalizzazione che il sistema sempre più deve essere disponibile a permettere in tempi rapidi. E adesso vedremo sostanzialmente alcune di queste caratteristiche in concreto. Preferisco alternare appunto il click al sistema che vedremo ad alcune slide esemplificativi proprio per raccontarvi al meglio anche con delle frecce quello che succede. Nella parte superiore dello schermo, per esempio, avete una commodity, un servizio aggiuntivo nuovo, a mio parere molto utile, richiesto proprio da chi cataloga. Cioè la possibilità di fronte a una lista risultati di salvare la lista, dare il nome e ripeterla quando la si vuole. Quindi io per esempio con il mio utente, qui vedete queste ricerche salvate, se clicco su questa iconcina con la lenzina del cuoricino, ho quattro ricerche salvate. Se decido di replicare una ricerca a cui ho dato un nome, che potrei cambiare anche in questo istante stesso, riesseguo la ricerca e mi viene rieseguita l'ultima ricerca effettuata con quei filtri. Ed è molto comodo perché probabilmente in fase di campagne di catalogazione, in attività di normalizzazione o comunque rispetto al vostro sotto insieme di dati, avere delle ricerche preconfigurate da utilizzare immediatamente è un qualcosa che vi può veramente velocizzare il lavoro. Nella parte sinistra, qui l'ho particolarmente ingrandito, quindi il rapporto rispetto al sistema reale è un po' volutamente esagerato. Abbiamo un menu ad apertura e chiusura, è un altro di quegli elementi che vanno a migliorare l'interfaccia. Sull'interfaccia è giusto precisare che il percorso fatto sino ad oggi è un percorso di miglioramento, ma che continuerà in modo importante nel 2024. E anche qui, ben vengano i vostri suggerimenti, è un percorso che stiamo già pensando con la regione Emilia-Ormania, per esempio introducendo un vero e proprio cruscotto iniziale e dando un maggiore spazio alle immagini. Qui la cosa è molto semplice perché possiamo chiudere e aprire il menu, adesso il mio è particolarmente ricco essendo un super amministratore anche con servizi informatici, però poco cambia rispetto al menu di un catalogatore e ho la possibilità di chiudere le voci, di aprirle e di per esempio vedere solo le funzioni di ricerca. Molto importante è anche il fatto che nella mia sessione di lavoro, quindi io Marco Ragneri, posso decidere in modo definitivo come voglio vedere il menu, se è sempre aperto o chiuso, in modo tale da eventualmente anche decidere una modalità iniziale che è sempre aperto perché io lo voglio vedere aperto oppure compatto. Quindi la facilità di muoversi sul menu, che in realtà è conseguenza, poi lo vedremo, della facilità di muoversi nelle singole schede. Quindi due facilitazioni molto immediate, molto istintive, quasi direi tese a velocizzare un po' il contesto. Vi faccio notare che nella parte superiore è stata aggiunta una cerca nel catalogo che permette di scegliere, è una sorta di ricerca libera scegliendo il tipo scheda, anche questa molto molto veloce ed immediata perché se ho una ricerca ben chiara da fare, sono sotto insieme, posso subito agire. E anche la ricerca per i di scheda, spesso lì di scheda che poi lì di Samira ormai quando si lavora una scheda per alcuni giorni lo si impara a memoria, quindi lo si può digitare in questo campo e con un semplice invio, con le clic e la freccettina si può andare avanti. Quindi come vedete si parla di accortezze e funzionalità che tendono, che vogliono facilitare e aiutare il catalogatore. Un'altra piccola funzionalità migliorativa, secondo me importantissima e ne beneficerete sicuramente, è il fatto che entrando in una ricerca, se avete già effettuato una ricerca, questa viene riproposta. È una comunità molto importante, per cui se io ho fatto una ricerca per DTZG secolo VI, VII e voglio aggiungere un ulteriore filtro, non devo riscrivere se non ho la ricerca, entro, la trovo già compilata, se non la voglio faccio pulisci, c'è un pulsante per pulire, oppure aggiungo ulteriori filtri, oppure la replico. Quindi questa funzionalità richiesta esplicitamente da catalogatori tende a non perdere l'opportunità di aggiungere altri filtri, se quello che è uscito dalla lista risultati è molto di più di quello che si pensava e quindi si vuole aggiungere un ulteriore filtro di ricerca. Quindi particolarmente utile sull'incrociata, ma attiva anche sull'avanzata, quindi sulle due funzionalità veramente di ricerca a disposizione del catalogatore. Quindi tornare in una ricerca e ritrovare i filtri già compilati senza doverli compilare di nuovo. Oltre ovviamente, come abbiamo detto, alla possibilità di memorizzare. Adesso io mi prendo la scheda 49639, che vedete già nella slide è in formato compatto, per cui anche la struttura CCD, che viene mantenuta, che tra l'altro segue la logica di visualizzazione del CJQ Web, cioè la totale continuità tra i due prodotti, è possibile vederla in modo compatto, come abbiamo visto per il menu. Abbiamo traslato la comodità di aprire e chiudere il menu anche all'interno della scheda 49639, andiamo a vederla e quindi per comodità... Io ho scelto semplicemente la scheda che è in veterinario del portale Pater, ho fatto una scelta molto semplice. Ecco, qui come vedete la scheda può essere completamente chiusa, ma può essere completamente aperta. Apro, chiudo e posso fissare decidendo come la voglio vedere, anche in questo caso, come la voglio vedere al momento in cui entro e questa decisione può essere replicata all'apertura. Quindi io, catalogatore, preferisco mantenere la scheda sempre aperta e decido che la voglio comunque vedere sempre aperta, anche se c'è questa nuova modalità. Scelgo solo occasionalmente di rimpicciolirla. Questa modalità permette sicuramente in modo molto più dinamico e efficace di muoversi tra i paragrafi, soprattutto nelle schede molto grandi, soprattutto in visione e non in catalogazione. Vado avanti, mi scuso per lo squillo inopportuno. Qui, per esempio, sto aprendo il paragrafo oggetto, come ho fatto prima. Come vedete, anche la gestione dei menu è stata ripensata, perché oltre ad avere il menu di sinistra, quello con le funzionalità che si possono aprire e chiudere, navigazione, ricerca, scheda, eccetera, eccetera, la parte di menu dedicata alla scheda appare nella parte centrale, quindi il secondo menu centrale, solo se si sta vedendo una scheda catalografica. In quel caso rimane la logica che, passata è sempre stata molto apprezzata, di vedere quali sono i paragrafi compilati in rosso e di poter selezionarli per lavorarci direttamente. Questo ovviamente rimane, a prescindere da questa nuova modalità di apri-chiudi. Molto importanti le facilitazioni che velocizzano l'operato del catalogatore. Alcune richieste, diciamo, erano nel cassetto anche da qualche mese. Questa, per esempio, è la facilitazione che permette in modo immediato di mettere un termine in un vocabolario aperto, lo riconoscete perché c'è una VA piccolina qui sulla sinistra, senza dover andare nella gestione dei vocabolari. Quindi in modo immediato, premendo il più, posso aggiungere un termine e ovviamente si parla di un vocabolario in cui si è abilitati, quindi nel caso specifico aperto, oppure con la X posso immediatamente eliminare l'occorrenza e quindi mi muovo facilmente all'interno del campo, senza uscire dalla forma e quindi con una navigazione che non è progressiva in pagine diverse, come succedeva con la precedente versione del Samira. Questo lo vedremo fra poco, in particolare anche per i campi ripetibili. Quindi one click, si dice così, si arriva. Altra cosa molto importante, la possibilità di vedere le liste di valori che riguardano i vocabolari ed anche i campi aperti. seleziono l'icona che è accanto al campo e ho la possibilità immediata di vedere tutte le occorrenze che sono presenti suddivise appunto per tipologia con il numero della tipologia. E questa cosa è molto comoda per poter cercare ciò che serve ed è immediata all'interno della scheda. Nel caso specifico posso anche aggiungere con il campo circa nei termini che nella parte superiore una qualsiasi parola che è presente in una delle occorrenze che sono nel vocabolario e ottenere solo quelle e poi selezionare il valore e portarlo dentro. È un elemento molto importante perché mi permette facilmente di capire se il vocabolo c'è già e anche per approcciare un percorso di normalizzazione dei vocabolari aperti. Quindi per intenderci, eravamo a questo punto qui, posso andare qui e in un istante andarmi a vedere la lista di cosa c'è dentro e poi per non fare la stessa ricerca di prima mettiamo ANSA e riesco a avere il sotto insieme di solo ciò che mi interessa. Posso selezionarlo e portarlo dentro la scheda. Quindi è una facilitazione che permette di avere una visione di insieme ma anche di dettaglio sulla lista di valori su cui si sta lavorando in un catalogo ormai molto ampio. Dopodiché, e c'è un'analoga feature, in questo caso per amministratori, che permette in modo più o meno analogo di avere la stessa lista, in questo caso navigabile, per pagina, quindi con numero di pagina, quindi ci sono due modalità di accesso a queste informazioni. Questa funzionalità per gli amministratori è un plus in più perché permette anche di modificare in modo immediato i valori. Quindi nel caso in cui Madonna del Carrobbio fosse presente due volte, una volta magari con una bissola, io potrei subito schiacciare un valore nell'altro senza uscire dalla scheda. Questo tipo di interventi, di normalizzazioni immediati, diventano un plus importante. Posso subito andare a razionalizzare situazioni di liste di vocabolari o comunque di campi aperti con valori molto simili e piccolissime differenze. Sempre rimanendo all'interno del mio paragrafo in cui stavo lavorando. Una delle cose che forse apprezzerete di più è il campo più sui campi ripetibili. Cioè la possibilità immediata di aggiungere subito un secondo valore. Io sto inserendo un campo ripetibile, magari ne ho anche tre o quattro occorrenze. La versione precedente costringeva una navigazione avanti e indietro abbastanza scomoda. In questo caso premo un più, quindi vicino per esempio al campo titolo vendemmiatrice, premo l'icona che vedete e ottengo subito la seconda occorrenza dove scrivere. Quindi rimango nel mio contesto e completo la scheda, il paragrafo rispetto a ciò che mi interessa. Con due modalità poi eventualmente anche di ripensamento per cui posso, oltre che cancellare l'occorrenza se magari non è necessaria, ma la posso anche spostare su e giù con le freccettine che vedete qui e anche trascinare con questi puntini che sono di lato. Quindi facilmente se ho tre o quattro occorrenze e le sto rivedendo assieme nell'interfaccia e voglio cambiare la priorità di visualizzazione, le sposto all'interno di una forma che sostanzialmente è sempre la stessa, quindi non esco dal ritorno in scheda completa, non esco dalla mia visualizzazione e sono in modo immediato, vado a mettere più valori e posso anche decidere di posizionarli in altro luogo. Come vedete sono piccoli dettagli, ma che possono velocizzare di molto la visualizzazione. Questo sino ad oggi negli aggiornamenti che stiamo facendo è uno dei servizi più apprezzati. Nel momento in cui andate a fare un caricamento a un nuovo file, per esempio siamo nel campo of tats, nel paragrafo FTA, il paragrafo DO, mettiamo il nome file e state navigando per cercare l'immagine, viene proposta immediatamente la miniatura. Questo è particolarmente importante quando il file non ha un nome parlante e qui vi invito quando è possibile se state caricando dei file digitalizzati a usare un nome parlante in linguaggio naturale, non c'è niente di male, oltre alla numerazione, poter aggiungere qualche elemento che permette di connotare anche il nome. Qualora, come spesso succede, vengono dati magari da fotografi o da chi fa digitalizzazione e quindi non hanno un nome parlante, vedere subito nel momento in cui si scorre le immagini e poter scegliere anche a fronte di situazioni e di cartelle che hanno situazioni molto simili, in termini di beni o in termini di aspetti di dettaglio, l'immagine permette di esattamente selezionare l'immagine senza dover aver preso nota per forza del numero e quindi c'è subito l'immediatezza. Questa funzionalità fa parte di un percorso di miglioramento visivo che è appena iniziato che sarà caratterizzata, come detto, sia in fase di cruscotto iniziale, sia in fase proprio di lista di risultati, di un maggior impegno visivo, di un maggior aiuto da parte delle immagini. Questo è un percorso che abbiamo iniziato con questa funzionalità e con un'altra che è solo per il superamministratore che dopo vedremo e che su cui crediamo molto e penso che anche la regione nel dare più spazio alle immagini vede in questa direzione. vi ricordo alcune funzionalità che conoscete già perché comunque sono quelle più utilizzate e più apprezzate. L'area di lavoro che resta al suo posto sostanzialmente in alto a sinistra nella parte di navigazione che vi permette di mettere da parte delle schede per poterle lavorare un po' alla volta e poi rilasciare utile per esempio per delle azioni di validazione o di normalizzazione. La duplica scheda oggi come oggi quasi tutte le schede si parte sempre da una base duplicata per riuscire a velocizzare il tempo di catalogazione selezionando solo i mark che la connotano e facendo anche un seleziona tutto e poi andando a deselezionare ciò che non interessa questa è un'altra funzione da sempre importantissima. L'albero di navigazione che si apre nella parte superiore che contiene tutti i legami presenti all'interno della scheda. Sapete che i legami per la singola entità sono centralmente evidenziati in rosso e sempre cliccabili quindi sono degli ipertesti quindi posso nella scheda corrente un'altra funzione utilissima quella delle schede recenti aprire l'albero vedere quali sono i collegamenti che ho ma allo stesso tempo andare anche a vedere le stesse informazioni magari ingrandendo tutto oppure ingrandendo su una parte selezionando le singole modali. questa è la parte file manager anche questa è migliorata molto la struttura a calterle con la parte di visualizzazione e gestione immagini come detto è in parte già visibile all'interno della singola entità e poi presente con una funzione specifica di navigazione delle immagini. Aggiungo a questo la possibilità e su questo magari vi faremo una comunicazione perché è comunque molto utile anche di poter usare una aprire una seconda sessione di lavoro all'interno dello stesso browser tramite un apposito plugin programma aggiuntivo da mettere nel browser in questo caso qui sto aprendo una seconda sessione come avete visto sessione 2 sessione 3 di lavoro ed è una cosa molto comoda perché posso sullo stesso browser lavorare su più su più sessioni di lavoro questo è molto utile per il catalogatore quest'ultima vi chiedo prima di cominciare a provarla di magari ricevere la comunicazione da parte di regione miglior magna perché necessita un piccolo aggiornamento sul browser tutto questo la scheda che vedevamo prima la faccio rivedere la sua interessa arrivo fino al doc così abbiamo la possibilità di vedere l'immagine che in questo caso qui è una miniatura media e poi andando allo zoom vediamo quella più grande con l'obiettivo anche come detto da Isabella Giacometti di poi raggiungere il portale e poter esporre i contenuti sia a termini in termini di ricerca sia in termini di esposizione in vetrina quindi anche di aggregazioni e di composizioni che danno un valore culturale aggiunto a quello che esiste ed è nel catalogo quindi alla conservazione e all'esposizione e sono particolarmente apprezzate proprio da quelli che sono le analisi statistiche da parte di quegli utenti che hanno interessi più turistico-culturali piuttosto che per gli esperti di settori ultima slide particolarmente importante il catalogo del patrimonio e il padre in generale sono pensati come interoperabili e da sempre il primo progetto commesso in elenco del pasticciat del Cinega fatto mi pare nel 2012 il portale offre l'opportunità di prendere contenuti ed usarli per altri fini ed è un testimone oltre che il progetto effettuato col Cinega non so il repertorio incisori bagnacavalli che ha 12.000 schede incisorie e all'interno di un portale tutto dedicato tutti i contenuti provengono real-time dal catalogo regionale il progetto Mater Ceramica attinge ad alcuni contenuti è iniziato da pochi giorni una ipotesi portale mosaici in cui è stata già data disponibilità dalla regione Emilia-Romagna per offrire le schede mosaico presenti in catalogo che vengono estratte real-time quindi in modo immediato e semplice ed esposte in tal senso anche un museo può esporre il meglio delle sue opere o una sua composizione andando a prendere dal catalogo più in generale c'è una grande attenzione alla possibilità di estrarre i dati come detto abbiamo oltre 160.000 schede già pubblicate e visibili e c'è una grande attenzione lo aggiungo anche rispetto a quelli che saranno i riversamenti centrali ministeriali a quello che sta succedendo per le partecipazioni in modalità federata a quella che saranno le esperienze di digital library nazionale quindi il sistema è pensato per andare verso verso l'esterno ecco io con questa slide termino ovviamente non è stato un corso di formazione ma una breve passeggiata sulle funzionalità l'idea era proprio quella di trasformare in pochi minuti e dare un senso a tutta una serie di funzionalità utili per i catalogatori e far continuare a crescere l'applicazione in questa direzione grazie a tutti